Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1 in direzione sud, con dei attratti e rallentamenti per traffico tra Roncobilaccio e Calenzano e tra Firenzuola e Aglio. In A11 ricordiamo che per lavori l'area di servizio Migliarino Sud è chiusa al traffico in direzione Firenze fino al 22 agosto. E arriviamo i fipili rallentamenti per traffico tra Scandice e la Strassigna per chi viaggia in direzione mare. Ultima pagina per il traffico urbano di Firenze, per la cantieristica, per la sostituzione di un motore tenda in via del Gignoro, quest'oggi fino alle 20 è in vigore un divieto di transito tra via d'annunzio e la dinamazione di via del Gignoro dopo il civico 41-1 in direzione lato via della Torre. Muoversi in Toscana Infi è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!